Tanti i tifosi che già sono giunti qui a piazza del plebiscito, Alberto Petillo, uno dei leader della tifoteria azzurra. Un vanto per la città, questa cittadinanza onoraria a Maradona. Che sicuramente era un italiano onoraria che merita di tutto, assolutamente. Anche se non fosse stato il più grande calciatore di tutti i tempi, Maradona è stato comunque un simbolo, un capitano, un leader. Ho combattato la tifoteria, non si è mai tirato indietro, da dove ha sbagliato ha pagato in prima persona fino all'ultimo il suo desiderio. E' una cosa dovuta e il tributo giusto da parte della città. Nello di Costanto, TCR Campania. Sono sempre stato.